Gentili telespettatori, buona giornata. Vediamo le regole dal 6 di agosto. Cosa si potrà fare senza e con il Green Pass. Quindi da questo venerdì, tra poche ore, vediamo le attività e gli esercizi per cui il Green Pass sarà obbligatorio per tutte le persone sul territorio italiano a partire dai 12 anni in su. Servirà per tante cose. Intanto deve essere mostrato da tutti i cittadini di età superiore ai 12 anni. Sono esentati, dal mostrare il Green Pass, i soggetti che hanno idonea certificazione medica. Il decreto stabilisce che in zona bianca è valido il Green Pass ottenuto dopo aver ricevuto la prima dose di vaccino e ha una validità di 9 mesi. Nelle zone gialle, arancione e rossa, il Green Pass ottenuto dopo la prima dose è valido per accedere a tutti i servizi e le attività consentite alle condizioni previste per le singole zone. Può avere il Green Pass che ha un certificato di guarigione nei precedenti sei mesi. Oppure ha fatto un test molecolare o antigenico o salivare nelle 48 ore precedenti con esito negativo. Per ottenere e scaricare il Green Pass bisogna aver ricevuto un SMS con un codice che dovrà essere inserito sulla pagina internet dgc.gov.it oppure sull'applicazione immuni. Oppure sulla app io invece compare direttamente. Chi non riesce a scaricare il Green Pass può esibire il certificato cartaceo dopo averlo stampato. Per svolgere attività sportiva al chiuso sarà obbligatorio esibire il Green Pass. L'elenco delle attività comprende piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, centri benessere anche all'interno di strutture ricettive, cioè all'interno degli alberghi. Negli stadi e nei palazzetti dello sport in zona bianca la capienza consentita non può essere superiore al 50% di quella massima autorizzata all'aperto e al 30% al chiuso. In zona gialla la capienza consentita non può essere superiore al 25% di quella massima autorizzata e comunque il numero massimo di spettatori non può essere superiore a 2.500 per gli impianti all'aperto e a 1.000 per gli impianti al chiuso. Rimangono validi i protocolli attualmente in vigore che prevedono l'assegnazione preventiva dei posti per consentire l'eventuale tracciamento dei casi positivi. Il distanziamento quando ci sono gli assembramenti e comunque dei posti a sedere, ingressi separati dalle uscite, l'utilizzo della mascherina al chiuso. Il decreto prevede che quando non è possibile assicurare il rispetto delle condizioni previste dai protocolli, gli eventi e le competizioni sportive si svolgono senza la presenza di pubblico. Vediamo per quanto riguarda bar e ristoranti. In zona bianca si dovrà presentare il Green Pass se si vuole andare al ristorante, al bar, nei pub, nelle pasticcerie, nelle gelaterie al chiuso e sedersi al tavolo. Non sarà necessario il Green Pass per chi sta all'aperto. Non sarà necessario il Green Pass per le consumazioni al bancone. Al chiuso è previsto un numero massimo di sei persone al tavolo. Per i banchetti seguenti le cerimonie civili e religiose il Green Pass era già stato previsto. Non c'è un numero massimo di persone a tavola. Il buffet rimane consentivato mediante somministrazione da parte di personale incaricato, escludendo la possibilità per gli ospiti di toccare quanto esposto. La modalità self-service può essere... vediamo un po' che mi sono perso. La modalità self-service può essere eventualmente consentita per buffet realizzati esclusivamente con prodotti confezionati in monodose. Il decreto prevede l'ingresso con il Green Pass nella zona gialla, arancione e rossa laddove sia consentito e alle condizioni previste per le singole zone. In zona gialla si può andare nei ristoranti e nei bar al chiuso fino alle 18. In zona arancione e rossa i ristoranti sono aperti soltanto per l'asporto e la consegna a domicilio fino alle 22. I bar fino alle 18, le vinerie e le noteche fino alle 22. Per quanto riguarda gli eventi e gli spettacoli, il Green Pass sarà obbligatorio per numerose attività del tempo libero. La lista comprende spettacoli aperti al pubblico, musei, istituti e luoghi della cultura, mostre, sagre, fiere, convegni e congressi, centri termali, parchi tematici di divertimento, centri culturali, centri sociali e ricreativi limitatamente all'attività al chiuso. Sale gioco, sale scommessa, sale bingo e casino. In zona bianca e in zona gialla gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali o spazi anche all'aperto. Sono svolgi esclusivamente composti a sedere preassegnati e a condizioni che sia assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro per gli spettatori che non siano abitualmente conviventi, sia per il personale. È obbligatorio indossare la mascherina e mantenere il distanziamento. In zona bianca la capienza consentita non può essere superiore al 50% di quella massima autorizzata all'aperto e al 30% al chiuso nei casi di eventi con un numero di spettatori superiore rispettivamente a 5.000 all'aperto e 2.500 al chiuso. In zona gialla la capienza consentita non può essere superiore al 50% di quella massima autorizzata e il numero massimo di spettatori non può comunque essere superiore a 2.500 per gli spettacoli all'aperto e 1.000 per gli spettacoli luogo chiuso per ogni singola sala. Se non si possono rispettare i protocolli sono sospesi gli spettacoli aperti al pubblico. I cittadini che non hanno il Green Pass rischiano la multa fino a 400 euro ridotta se paga entro 5 giorni. Per gli esercenti dopo due violazioni commesse in giornate diverse si applica a partire dalla terza violazione la sanzione amministrativa accessoria della chiusura da 1 a 10 giorni. Questo è il decreto che era già stato approvato 22 o 23 di luglio. L'altro decreto vedrete che uscirà domani ma si prevede per domani quello sulle un decreto aggiuntivo dove utilizzare il Green Pass aeree i treni e mezzi di trasporto. Io vi ringrazio per avermi ascoltato vi invito ad iscrivervi al canale l'iscrizione è gratuita siamo anche in facebook nell'altro canale di youtube teleitalia seconda rete siamo anche poi in come vi dicevo nella community poi trovate anche tanti sondaggi quali poter partecipare e commentare. Grazie a tutti ci vediamo al prossimo video tra una ventina di minuti. Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti